Capir Bedi da sabato scorso è cittadino onorario di Caggiano, anche se con voto contrario in consiglio comunale della minoranza guidata da Angelo Lorusso. La decisione pare fosse già stata annunciata con la scelta della data della cerimonia fissata sabato 27 luglio, vista la partecipazione del noto attore indiano a Maratea per le giornate del cinema lucano premio internazionale Basilicata. Tutto deciso quindi, seppur mancava ancora il passaggio in consiglio comunale. Questo uno dei motivi del voto contrario della minoranza al riconoscimento della cittadinanza onoraria. Non sono ben note, peraltro, le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione comunale guidata da Modesto la mattina a concedere l'encomio. Secondo quanto sarebbe emerso nel corso del consiglio comunale dello scorso 23 luglio, pare che la decisione sia stata adottata sulla base di un passato che ha visto il comune di Caggiano legato all'India per la presenza di altre personalità indiane e per la venuta dell'attore lo scorso anno con la sua troupe, dove peraltro è stato anche ospite a spese dell'amministrazione comunale. In tale occasione si è repotizzata la scelta di Caggiano come futuro luogo di riprese di scena, cosa però che a quanto pare non è ancora avvenuta. Per l'opposizione si è trattato di una trovata propagandistica che però sminuisce il valore dell'encomio. Angelo Lorusso inoltre evidenzia come le due presenze dell'attore a Caggiano siano avvenute entrambe in concomitanza con altri appuntamenti organizzati in località vicine a Caggiano. Il nostro gruppo, spiega, in maniera unita e compatta si è espresso negativamente per due motivi. Innanzitutto perché abbiamo ritenuto inaccettabile che la decisione sia stata assunta fuori dal consiglio comunale e antecedentemente senza che il consenso si fosse ancora espresso in merito. Riteniamo questo comportamento obliterante nei confronti del consiglio. Inoltre, continua Angelo Lorusso, non abbiamo riscontrato le motivazioni minime e necessarie affinché un atto di questa portata sia valorato. Motivazioni quali impegno o opere che lo legano al nostro Paese, iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropiche che, con tutto il rispetto per il signor Bedi, non ha mai apportato alla nostra comunità.